Buonasera, sono Teresa Musto dell'Associazione Terra Futura. Io sono Giovanna Vitiello dell'Associazione Terra Futura. La nostra associazione che è nata a Chiaiano da un anno si occupa di ambiente e di sviluppo sostenibile, quindi delle buone pratiche di vita. Nell'ambito delle attività che l'associazione svolge è nato questo laboratorio che ha l'obiettivo di recuperare e riutilizzare i materiali che normalmente vengono considerati inutili o comunque rifiuto. Stasera, anche perché siamo in clima natalizio, vorremmo farvi vedere alcune creazioni che come laboratorio abbiamo fatto e che possono essere realizzate con pochissimo, abbiamo del materiale estremamente semplice, se vedete sul tavolo quello che abbiamo, ma che con un po' di fantasia possono diventare degli oggetti estremamente semplici e oltretutto esclusivi perché nascono dall'osservazione degli oggetti e quindi dalla capacità che hanno di essere trasformati in qualcos'altro. Stasera vorremmo farvi vedere come abbiamo realizzato questa ghirlanda natalizia. Ci sarà una variazione perché questa vedete anche la lucina dentro. Ne faremo una più semplice proprio per permettere a tutti di realizzarla. Per realizzare questa ghirlanda occorre utilizzare queste bottiglie, sono delle bottigline normali, normalissime per l'acqua. Di questa bottiglina noi utilizzeremo praticamente tutto perché tutto può essere utilizzato per realizzare delle cose. Per la ghirlanda ci occorre utilizzare questa parte, mentre invece con la parte centrale realizzeremo dei portatovaglioli, con la base si può realizzare la decorazione per l'albero normale. Adesso invece ci occuperemo della ghirlanda, quindi lavoreremo con questa parte della bottiglia. Allora per realizzare questo progetto utilizzeremo bottiglie di plastica, un taglierino, un cutter, delle forbici, un filo elastico e per la decorazione utilizzeremo un fiore e della colla a caldo per incollare la decorazione. Per tagliare i colli con il cutter facciamo un taglio nella bottiglia e poi con le forbici tagliamo via il collo. Bisogna tagliare 16 di queste bottiglie per poter avere questo effetto diciamo circolare delle bottiglie dei colli che si incastrano per poter realizzare la ghirlanda. Dopo aver tagliato le 16 bottiglie dobbiamo infilarle uno nell'altro attraverso questo filo elastico. Ecco qua. Con un po' di attenzione perché se il filo scappa... se ne ricominciare. A noi ci è successo diverse volte. Ecco qua. Dopo che di che si cerca di fare un nodo più stretto possibile. Ecco qua. Solo tagliare... taglierò più solo qua. Ecco qua. Dopo di che guardate... questa è la ghirlanda... questa è la ghirlanda e poi con un po' di colla al caldo si attacca il fiore sul cerchio. E si fa un fuori porta diciamo oppure può essere una decorazione da appendere in casa. La colla sta uscendo. Allora. Tutto a più se poi uno vuole e vuole farla un po' più luminosa può mettere all'interno insieme al filo. Insieme al filo può mettere delle lucine colorate in modo che poi si accende e può mettere fuori la porta dove si vuole. E la ghirlanda è fatta. Molto semplice e molto veloce per cui... ed anche di un bel effetto. Allora.